Ecco, sono qui con questa bobina di Tesla che ci riporta a una metodica modernissima, una metodica biofisica, si chiama Hess Drive ed è un test che attraverso il rilievo di informazioni elettromagnetiche date dal bulbo del capello, permette di avere una configurazione sistemica della nostra salute, attraverso proprio l'interdigitazione con delle informazioni che fanno parte del nostro corpo, ma che il bulbo come una sorta di antenna trasferisce in un grande software che è in Germania e che permette in 12 minuti di avere un report di 35 pagine in cui viene valorizzata l'idea di una salute differente, una salute sistemica, una salute in cui diversi fattori, vitamine, minerali, antiossidanti, fattori che influenzano l'ambiente come le interferenze elettromagnetiche, sostanze chimiche, veleni ambientali, metalli tossici, la relazione con microbi e soprattutto con microbi del microbiota e poi anche la possibilità di andare a valutare gli acidi grassi essenziali fondamentali per il mantenimento della salute e anche una catena di aminoacidi, tutte queste informazioni messe insieme in un particolare algoritmo che viene creato da questo test vengono poi ad essere orientate sulle problematiche della salute del paziente che chiede attraverso questo test di avere una lettura differente della sua salute, una lettura che parta da dentro e curi da dentro verso l'esterno, mentre la maggior parte delle medicine si occupa di curare la parte esteriore della problematica, per cui abbiamo tutte le medicine sintomatiche, attraverso l'est drive noi riusciamo con una visione clinica molto più completa e molto più complessa ad entrare in connessione con sistemi intimi del paziente e poterli regolare attraverso un semplice strumento, il primo che utilizziamo è il cibo, la prima medicina di cibo e poi la possibilità di interagire sullo stile di vita, di interagire sulle problematiche di ordine psico emotivo, di interagire sullo stato integrativo quando vengono visualizzate delle carenze, per cui siamo proprio di fronte a una rivoluzione, siamo di fronte a un modello medico che sfrutta le onde elettromagnetiche che oggi noi stiamo sfruttando per esempio nelle comunicazioni attraverso il web, ma che la medicina già sta sfruttando attraverso esami come per esempio la risonanza magnetica, la TAC, la stessa PEC e quindi noi oggi andiamo oltre, andiamo ad osservare il micro, andiamo a osservare un microcosmo che è quello umano, è quello collegato alle cellule, collegato all'interstizio cellulare, collegato ai vari sistemi di regolazione complessa, di un sistema moderno di salute che richiede sempre più l'intervento di questo modello di medicina, perché oggi siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a una plurimorbidità con tanti pazienti che stanno vivendo di più, ma con qualità di vita precaria, tanti pazienti che si ammalano precocemente, tanti pazienti che vivono buona parte della loro esistenza in qualità di salute, non buona, ma con zero malattie, cioè sono quei pazienti che vanno in giro alla ricerca di una possibilità di diagnosi, ma che non vengono fra virgolette etichettati nosologicamente. Con S-Drive è appunto un salto verso il futuro, S-Drive è una possibilità in più per poter intervenire alla base, alla radice dei problemi.